Questa è la situazione alle 17.45, mannaggia alle nuvole, non penso che cambierà, anche se me lo auguro, guardate 17.49 sul cartellone d'autostrada. Questa è la situazione, sono circa le 18.30, è molto coperto e abbiamo una finestra ancora di fino alle ore 20 più o meno, sperando che tramontando si riesca a vedere qualcosa, confidiamo nella sorte in questo clima, in queste nuvolacce maledette. E alla fine invece il sole si è timidamente concesso vicino al tramonto, è sceso un po' sotto le nuvole e sono riuscito a catturare due scatti, eccolo lì, Mercurio in transito sul disco solare ragazzi. Ma dopo queste due immagini vedremo anche una serie di video nelle varie lunghezze d'onda della luce, molto caratteristici, che ho preso e sviluppato da helioviewer.org. Ragazzi, quanto siamo piccoli, quanto siamo distanti da tutto, è stupendo, guarda, questi eventi astronomici ci fanno capire veramente tante cose, fatemi sapere cosa ne pensate e vi lascio al video. Grazie a tutti. Grazie a tutti.